Ventagli di sfoglia cotti in frigitrice ad aria. In una ciotola mettete due cucchiai di zucchero semolato e due cucchiai di zucchero di canna e girate bene. Srotolate un rotolo di pasta sfoglia rettangolare. Da un lato arrotolate la pasta sfoglia su se stessa sino ad arrivare a metà del rotolo. Fate la stessa cosa anche dall'altra parte della sfoglia. Tagliate la pasta sfoglia a pezzetti spessi un centimetro, un centimetro e mezzo circa. Passate ogni ventaglio nello zucchero di canna e semolato e mettetelo sulla griglia della frigitrice. Schiacciateli leggermente. Mettete la griglia dentro la frigitrice ad aria. Spolverizzate con altro zucchero di canna e semolato. Fate cuocere a 180 gradi per 15 minuti. Aggiungete altro zucchero. Eccoli pronti i vostri ventagli di sfoglia pronti per essere gustati. Grazie. Grazie. Grazie.